Ciao, mi chiamo Angelica Fontana, sono una progettista di servizi ed esperta di design thinking. Mi occupo principalmente della progettazione di corsi di formazione e percorsi, principalmente legati al mondo dell'innovazione. Design thinking e innovazione. Design thinking, non avete sentito parlare? Partiamo da questa domanda. Secondo voi creatività e intuizione possono essere dei fattori legati all'innovazione? E ancora, come si fa ad essere innovatori? L'innovatore spesso viene considerato come l'anti accademico, il creativo, la persona che pensa in maniera diversa. Sicuramente è una componente, ma quello che è importante è avere tecniche e metodi precisi da poter applicare. Questo sarà il cuore del nostro percorso di design thinking e innovation, ovvero di trasferire dei contenuti e delle tecniche replicabili di innovazione che vi possono aiutare quotidianamente nella generazione di soluzioni, della risoluzione di problemi. Quindi vi aspetto e ci vediamo per il segnario di design thinking e innovation. Grazie a tutti.